Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura l'incendio che è convolto l'istituto degno di Torre del Greco in piazza Luigi Palomba. Portone è danneggiato ma non ci sono altri danni alla struttura. E passiamo ora all'emergenza sanitaria con dati rassicuranti provenienti dai comuni del Vesuviano. Torre del Greco da tre giorni non ha nuovi contagi e proprio questi dati così rassicuranti fanno pensare al governo nazionale di introdurre nuove riaperture e persino abolire il coprifuoco e l'obbligo di mascherina all'aperto. Passiamo ora alla cronaca con la maxi operazione della polizia di Napoli che ha portato all'arresto di 37 esponenti di clan locali. In conclusione l'emergenza rifiuti a Torre del Greco che come ogni lunedì è invasa ad accumuli di rifiuti tantissimi ingombranti fra cui pezzi di immobilio sparsi in strada. Questo ed altro nei nostri servizi. Preoccupazione per l'istituto Francesco Degni, Torre del Greco. Siamo qui in piazza Luigi Palomba, fuori alla sede storica, dopo che ieri un incendio è divampato all'esterno della struttura. Non dovrebbe essere niente di grave, come annunciato anche la dirigente scolastica ieri con un post. Le fiamme si sarebbero limitate a danneggiare il portone esterno, quello che vedete alle mie spalle oltre la chiesa. È stato un principio di incendio, non un incendio vero e proprio, quindi il portone è stato solamente bruciato. Non sono ancora chiare le cause delle fiamme. Probabilmente dalle prime analisi sembrerebbe che l'incendio sia stato di origine dolosa, ma non sappiamo ancora quali motivazioni possono aver portato a un simile gesto. Forse goliardia, forse estorsione, forse un atto vandalico. Ci sono al momento degli operai al lavoro che stanno cercando di sostituirlo. Le aree interne e la struttura non sono state coinvolte, le aule sono sicure e tutti gli impianti della scuola non sono stati toccati alle fiamme, sempre come assicurato la dirigente ieri. L'incendio è stato arginato dal tempestivo intervento di un passante che ha subito cercato di estinguere le fiamme e dall'arrivo dei vigili del fuoco che hanno prontamente messo in sicurezza la zona. Questa mattina la dirigente scolastica, Rossella Di Matteo, ha sporto denuncia contro i gnoti. Oggi gli studenti sono tutti in dad per consentire i lavori di riparazione del plexiglass danneggiato, ma già da domani sarà garantita la normale frequenza fra i banchi. Torre del Greco, covid free da tre giorni. Sono sempre più confortanti i dati relativi all'andamento del covid-19 nei comuni vesuviani. La situazione a Torre del Greco rimane invariata, nessun nuovo caso positivo da circa 72 ore. Una situazione di stasi però che non vede neanche una guarigione nelle medesime ore. Il bilancio dei contagiati rimane dunque fermo con 178 attualmente positivi, di cui 15 ospedalizzati. Reassicuranti anche i dati di Torre Annunziata, nelle ultime 72 ore sono stati effettuati 275 tamponi, di cui solo 7 con esito positivo. L'indice di positività si attesta dunque al 2,54%. Al contempo si registrano anche 24 guarigioni. Portici, invece, registra un solo nuovo caso positivo su 129 tamponi effettuati, confermando l'ottimo andamento dei dati come nel resto dei comuni vesuviani. Anche i dati di Bosco Reale in calo. Gli attuali positivi sono diminuiti a 101. Fino all'8 maggio erano in 141. Rimane invece invariato il numero dei decessi, che sono 47. Continua la campagna vaccinale e al 13 maggio sono 7.310 le dosi di vaccino somministrate ai cittadini boschesi, con un indice del 19%. Contagio è impicchiata. Si va verso la fine del coprifuoco. Meno di 6.000 casi, le terapie intensive e i ricoveri ancora in discesa e, per la prima volta da 7 mesi, il numero delle vittime per il Covid in Italia è in 24 ore che scende sotto i 100. Sono 93 quelle registrate nel bollettino del Ministero della Salute. L'ennesimo segnale del calo della diffusione del virus, ma soprattutto dell'efficacia dei vaccini nel ridurre le ospedalizzazioni e i morti. I dati arriveranno sul tavolo della cabina di regia che ci sarà nelle prossime ore a Palazzo Chigi. Se confermati nelle prossime settimane, porteranno alla cancellazione del coprifuoco, una delle misure più significative e controverse di questi mesi. Con i dati di miglioramento, dice il Ministro della Salute Roberto Speranza, possiamo allentare e poi superare il coprifuoco. Per ora però si procederà seguendo la linea e la gradualità e della prudenza, come ha ripetuto più volte il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e come ha confermato anche oggi lo stesso Speranza anche alla luce degli assembramenti che si continuano a registrare nelle città, soprattutto nelle aree della Movida, come dimostrano le immagini di Roma e Napoli. Il nuovo provvedimento sarà operativo dal 24 maggio e riscriverà tutta una serie di regole e restrizioni. La prima è appunto quella che riguarda il coprifuoco. L'indicazione era di posticiparlo alle 23, ma non escluso che possa essere portato fino a mezzanotte, visto il pressing del centro-destra e delle regioni. Un nuovo check verrà fatto poi all'inizio di giugno e potrebbe essere quella l'occasione per cancellarlo definitivamente. Il centro-destra continua a chiedere aperture vere per tutti i settori, soprattutto quelli che ancora non hanno una data per poter ripartire. Matteo Salvini alza nuovamente la posta. Ci aspettiamo riapertura e ripartenza, lavoro e libertà, all'aperto e al chiuso, di giorno e di sera. Il governo dovrebbe dunque decidere anche la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana, quella delle piscine al chiuso, che potrebbe essere il primo giugno assieme alle palestre, e la ripresa del settore dei matrimoni. La data potrebbe essere attorno al 15 giugno e non è escluso che il wedding sia la prima attività nella quale sperimentare il Green Pass, le certificazioni che già consentono di spostarsi tra regioni di colore diverso. Chi vuole partecipare ad un banchetto dovrà avere il certificato di vaccinazione di avvenuta guarigione o un tampone negativo effettuato 48 ore prima della cerimonia. Non dovrebbe cambiare nulla invece per quanto riguarda la data ai ristoranti al chiuso. Potranno riaprire a partire dal primo giugno. È possibile però che il governo decida di consentire l'attività anche la sera, mentre al momento il decreto fissa l'apertura dalle 5 alle 18. Dibattuta anche la questione sul mantenere l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Al momento, ha detto Locatelli, è troppo presto per rimuoverla. Oggi la scelta non è ipotizzabile, ma, ha aggiunto, verrà il momento in cui potremo abbandonarla. Non sarà all'inizio di giugno, ma non è affatto escluso che con l'arrivo dell'estate, quando metà della popolazione sarà vaccinata almeno con una dose, dopo il coprifuoco anche l'oggetto più indossato dagli italiani in quest'ultimo anno possa diventare un ricordo. Nelle prime ore di questa mattina, gli agenti della squadra mobile del commissariato San Giovanni Barra hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 37 persone gravemente indiziati dei reati di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsione, detenzione e porto di armi da fuoco aggravati. Il provvedimento cautelare ricostruisce l'esistenza del cartello criminale Rinaldi-Reale Formicola, operante prevalentemente nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, ma con ramificazioni in altre zone della città di Napoli, nell'ambito della sfera di influenza, direzione e controllo dell'alleanza di Secondigliano, in contrapposizione con il clan Mazzarella. Le indagini ricostruiscono attraverso le intercettazioni telefoniche ed ambientali le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed i riscontri, l'operatività del cartello e gli scontri armati con il clan Mazzarella, a partire dalla seconda metà dell'anno 2014 fino al 2019. Attuati per il controllo delle attività illecite nell'area orientale della città di Napoli, nelle zone di Piazza Mercato, Porta Nolana, nonché nei comuni di San Giorgio a Cremano e Portici. Ancora disagi sul fronte ai rifiuti a Torre del Greco. Come ogni inizio settimana, le strade risultano invase dai rifiuti di ogni tipo. Mancato ritiro dei sacchetti, ma anche numerosi ingombranti e abbandonati. La situazione sembrerebbe coinvolgere più aree della città, indipendentemente dalle zone centrali e periferiche. Ad oggi, ciò che attira l'attenzione e crea maggiori disagi è senz'altro la presenza di numerosi oggetti ingombranti, quali elettrodomestici o pezzi di immobilio. Non mancano però i sacchetti, che non hanno visto il corretto ritiro in parte per inadempienza del sistema rifiuti torrese e in parte per lo sbagliato conferimento dei cittadini, che non ne hanno reso possibile la raccolta, da parte degli operatori. Una situazione sì critica, come già raccontato nelle scorse settimane, ma che ora tende ad essere più grave. I mesi estivi sono in arrivo e, seppur con le limitazioni dovute al Covid-19, Torre del Greco si prepara ad accogliere nuove avventure. Oltre alle persone in strada, si pone l'incubo temperature alte, che potrebbero avere effetti nocivi sui rifiuti abbandonati. Gli orari di ritiro spesso non sono rispettati e le operazioni di raccolta dei rifiuti si protraggono dalla notte fino a mattina inoltrata, incorrendo in non pochi disagi con traffico e pedoni. Non è bastato quindi il nuovo piano di raccolta rifiuti messo in campo dal Comune di Torre del Greco nelle scorse settimane. I bidoni posti all'esterno degli edifici non vengono ritirati durante le ore del giorno come da regolamento, anche a causa di un mancato ritiro nelle ore prestabilite, lasciando i cassonetti che occupano il suolo pubblico e creano non pochi disagi. Un duro braccio di ferro, quindi, con la gestione rifiuti non di certo ottimale che, nonostante le migliorie, presenta ancora ora delle falle nel sistema di ritiro rifiuti. Dall'altro lato della contesa, i cittadini, forse erroneamente educati al conferimento in formula di differenziata e di deposito degli ingombranti, che porta spesso a creare numerosi disagi agli operatori ecologici operanti sul territorio. Grazie per la cortesa attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione in chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. E con questo è veramente tutto, io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi. Grazie a tutti.